Ciao e benvenuto nel canale YouTube Edifici di Paglia Italia. Io sono Nicola Preti e mi occupo di architettura sostenibile dal 2012 e nei video che puoi trovare qui sotto troverai affrontate tantissime tematiche che vanno dalla concettazione alla pianificazione energetica, dalla scelta dei materiali al controllo dei costi, per aiutarti a chiarire le idee su tutto quello che ha a che fare con la costruzione della casa dei tuoi sogni. Informarsi è fondamentale soprattutto quando si affronta un tema come la biodidizia che negli ultimi anni è diventata un po' una moda e che quindi è vittima, come accade sempre, di falsi miti e mistificazioni. Spero che questo materiale ti aiuti a fare chiarezza. Buona visione? Clicca sul campanello e attiva le notifiche per rimanere aggiornato su tutti i contenuti. E se vuoi scoprire di più sul mio lavoro e sui nostri progetti ti aspetto anche su www.edificilipaglietaglia.com Ciao e buona visione!